Prima pagina TRG per quanto riguarda la rassegna mattutina e l'informazione mattutina sulla nostra emittente. Ci siamo anche in questo sabato 20 di gennaio. Andiamo allora a vedere le prime pagine per l'appunto dei quotidiani regionali partendo dal Corriere dell'Umbria. IRPEF in Umbria non si tocca. Su 92 comuni 83 lasciano l'aliquota invariata rispetto allo scorso anno. Restano sei paradisi fiscali tra cui quello di Assisi. Da Gubbio vedete nel box a sinistra con Slain che lancia la sfida a Meloni le prime schermaglie politiche. La segretaria del PD assieme al partito ha scelto l'Umbria per un seminario che funge da start per quanto riguarda i prossimi appunti. appuntamenti politici. La fotonotizia arriva dall'Orvietano con la scarzuola nella classifica dei giardini più belli d'Italia. La città ideale dell'architetto Buzzi entra di fatti nel network dei grandi giardini italiani. Continuando nei box a sinistra la politica in risalto da Perugia. Vannacci si difende. Io razzista falso. Il generale ha presentato il suo libro per quanto riguarda appunto la sala della vaccara riempita dal volume del generale. E poi ancora da Bastia Umbra con la cronaca locale notturno chiuso dopo una rissa. Provedimento per ben 30 giorni. Città di Castello invece Tesei testa la sanità. Si fa visitare dal Lotorino per quanto riguarda la visita della presidente al nosocomio Tifernate. E poi ancora da Foligno Umbra Group finanzi il restauro dell'auditorium. 50 mila euro per Santa Caterina. Da Terni Bandecchi dopo 25 anni riaccende mille lampioni. A San Valentino di fatti riattivati 30 punti luce. Andiamo così anche alla nazione. La giungla dell'energia. Il mercato libero scatene il caos concorrenza. Famiglie Umbra spaesate e indifese. Questo l'allarme di Federconsumatori. Utenti disorientati dall'aggressività dell'azienda e attenti alle truffe. Città più sicure. Intanto arriva nei rinforzi. Raddoppiati il contingente dei militari destinati a Perugia. Si passa da 15 a 30 unità con decisione del governo. Dal giudice invece il giovane accusato per quanto riguarda il caso di stupro a Ponte San Giovanni. Il rapporto è stato consenziente ma io alla piscina non c'ero. Ha dichiarato. E poi da Terni trovata a spacciare in un parcheggio davanti all'Aste e scatta l'arresto. Bastia Umbra risse pericoli. Locale chiuso per 30 giorni. Al Trasimeno sul lago sbarca il glampling. Più turisti e posti di lavoro. PD in conclave a Gubbio tra clausura e frecciate per quanto riguarda i deputati al Parco Hotel ai Cappuccini. Non è una gita, ha confermato Slain. Mentre per quanto riguarda la tassa di soggiorno andrà per i beni culturali. Nuove regole sull'uso dei fondi. Veniamo così anche al messaggero. Strade sicure raddoppiano i militari. Il sottosegretario Prisco annuncia l'arrivo di altri 15 uomini per Perugia e provincia. Torna l'ipotesi anche del presidio a Fontiveggie che i residenti chiedono da tempo. Da Terni in stadio clinica vi spiego perché si può fare. Il progettista Anibaldi dichiara il comune può iniziare convocando la Ternana Calcio. Spoleto. L'ospedale ottiene urologia dopo lo scontro sul terzo polo sanitario. Questo dopo l'incontro del centro-destra con la governatrice Tesei. In Umbria invece gli stipendi più bassi di tali. Industrie terziarie avanzate i settori dove la differenza è più marcata. Sottolinea sempre il messaggero che apre il focus anche su padre Enzo Fortunato d'Assisi chiamato dal Vaticano. E poi ancora col twist vince una borsa di studio negli USA. Parliamo della diciassettenne umbertidese Gaia Giovannoni che si impone alla Mad Competition proprio in terra americana. Davvero talento puro per la danzatrice di Umbertide. Poi Foligno. Il Carnevale lancia la festa. Si parte il 28 per quanto riguarda la manifestazione di San Teraclio. Quindi battuto il gender gap donne e università all'Umbria. Il primato scrive ancora sempre il messaggero e da Gubbio trova la casa svaliggiata dai ladri e sviene. È accaduta una 77enne residente nella zona Shanghai alle porte del centro storico Eugubino. Per quanto riguarda lo sport sotto la testata. Terranacalcio e dunque Serie B assalto al Cittadella per uscire dalla crisi. Ha liberato una partita decisiva in chiave salvezza per i Rossoverdi. Mister Breda sprona i suoi ragazzi conto sullo spirito di Rivalsa per cercare la salvezza. E poi Perugia invece per quanto concerne la C. La cessione di Delorco. Il centrale difensivo rimane congelata ma il difensore resta fuori nel match con la SPAL. C'è una trattativa in essere con il Brescia per l'esperto centrale difensivo bianco-rosso. Andiamo allora agli approfondimenti partendo dal Corriere della Politica e da Gubbio con la sfida di Schlein a Giorgia Meloni. Parte proprio dal Parco Telle Cappuccini. La segretaria PD sull'assenza del primo giorno. Ho visto un film che poi era Cripton di Munzi sulla rivale peggio di Berlusconi con gli attacchi al diritto di inchiesta ha dichiarato. Nessuna parola su candidatura all'europea taglia la spesa sanitaria invece ha dichiarato sul governo la segretaria del Partito Democratico. Sulla scelta proprio del Parco Telle ai Cappuccini la SPA è chiusa e nessuno ha portato il costume ha dichiarato e nemmeno la pistola poi ha detto sempre Schlein. Poi c'è stata anche la visita a Cantiano che non va lasciata sola. Il comune che fa parte della diocesi e Gubbina fu colpito dall'alluvione un anno fa ad accogliere Eddi Schlein a Cantiano. Il sindaco Alessandro Piccini, il sindaco di Cantiano, ha visitato proprio i luoghi dell'alluvione ricordata anche nel box. Il 15 settembre del 2022 fu l'inferno. Il fiume Burano devastò di fatti parte della città marchigiana. Qui vedete anche alcuni dei momenti proprio del dibattito, del discorso, dello speech fatto proprio da Ellis Line al Parco Telle ai Cappuccini con i giornalisti poi che l'hanno aspettata anche all'esterno dell'albergo. Qui invece assieme al sindaco di Cantiano Piccini, sempre la segretaria del Partito Democratico. Dalla Nazione invece Operazione Strade Sicure raddoppi il numero dei militari in Campa Peruti. Il governo stanzia 190 milioni nella legge di bilancio e su disposizione del ministro Piantedosi il contingente nel capoluogo raggiunge così le 30 unità con la soddisfazione di Prisco, di Fratelli d'Italia. Intanto Vannacci presenta il suo libro e non sono razzista. Elezioni aspetto per decidere, dichiara per l'appunto il generale Roberto Vannacci. Davastia Umbra, locale chiuso per 30 giorni, era stato teatro di una rissa. Il provvedimento nei confronti di un'attività frequentata dai giovani, grave allarme sociale e pericolo per la sicurezza pubblica. La politica ancora sulla Nazione Weekend che sotto questo punto di vista è piuttosto ampio. Monni presenti il progetto Il Campo Largo si allarga. L'ex consigliere regionale annuncia la candidatura sindaco al Cinema Lilli. Domani PD, Sinistra e Cinque Stelle illustrano il programma per le amministrative. Anche i civici di Demos aderiscono al progetto di centrosinistra. Per azione arriva intanto Matteo Ricchetti. Per quanto riguarda le manovre verso le elezioni anche Francesca Renda, consigliere comunale e in procinto di accasarsi con Fratelli d'Italia, scrive la Nazione. Ricci invece verso la civica scoccia si legge per quanto riguarda appunto le varie manovre in vista delle amministrative. Treni per Roma indegni di un paese civile, i Cinque Stelle e le linee dell'Umbria. Pendolari puniti si legge con interlocazione parlamentare a firma della deputata Pentastellata Pavanelli. Farmacie pubbliche, la nomina di D'Accunto e membro dell'ufficio di presidenza di Assofarm, scrive sempre la Nazione. E poi le tendenze per il futuro invece in risalto su il messaggero. Prof e ricercatrici donne, le università insegnano a battere il gender gap. Il rapporto Ambur, UniPG e UniStranieri hanno più docenti al femminile della media nazionale. L'importanza dei progetti di inclusione, il divario si combatte di fatti dai banchi. E poi il punto, rigenerazione urbana e social housing di Cop Umbria a casa, una cerimonia molto speciale in occasione dei 40 anni di attività. In Umbria gli stipendi sono i più bassi d'Italia, sottolinea sempre il messaggero. Un'analisi AUR su dati IMSS conferma il gap rispetto alla media nazionale. Industria terziario avanzato, i settori dove la differenza cresce, scrive proprio il messaggero. Fu l'analisi di AUR, qui in foto anche la responsabile di ricerca Elisabetta Tondini e il grafico che riguarda proprio le retribuzioni in Umbria e i vari marcatori. Per quanto concerne ancora la pagina regionale, la cronaca, stupro, attesa la decisione del GIP. Il ragazzo arrestato ha detto abbiamo avuto un rapporto consenziente, la vittima tutto falso. Dopo l'interrogatorio di garanzia gli avvocati del 24 anni hanno chiesto la scarcerazione del loro assistito per quanto avvenuto nella piscina di Ponte San Giovanni. Ancora si parla di energia, la giungla del mercato, come sottolinea la nazione. Famiglie spesate in difesa e la situazione è preoccupante. A parlare federconsumatori, qui il presidente Alessandro Petruzzi. L'aggressività di oltre 700 aziende che vendono luce e gas sta mettendo in crisi migliaia di consumatori che non sanno più che pesci prendere. E attenti alle truffe, sottolinea Andrea Farinelli dello SPI e CGL con vari tranelli in agguato. La qualità dell'abitare verso il social housing anche sulla nazione Copa Umbria Casa che celebra i suoi 40 anni con anche le parole del presidente Grimani. E poi Umbria, cale il numero dei lutti, sfatata la leggenda metropolitana nel 2023, mille decessi in meno. Frena il Covid, i numeri tornano in media, smentiti i negazionisti. A gennaio e febbraio si muore di più, scrive proprio la nazione per quanto riguarda anche l'influenza che in inverno è un elemento decisivo mentre il caldo non è più un fattore di mortalità, questo dicono i numeri. Mentre al Santa Maria della Misericordia, tumore al cuore, intervento di rimozione. Passiamo ai territori. Il gambling al Trasimeno, campeggio ma di lusso. Maggioni, il titolare della nuova struttura di Sant'Arcangelo, Loec Vandelò, si presenta alla città e assicura più turisti e nuovi posti di lavoro per quanto riguarda la cittadina Lacustre. Una vacanza all'aria aperta ma nel segno del Glemur, grande opportunità per il territorio, ha sottolineato il sindaco Chiodini. Da Assisi invece, via Stradone più sicura, finanziati i lavori sul tratto del Comune, strada al limite della praticabilità, ora arrivano i soldi per effettuare gli interventi dopo il sopralluogo da parte di ANAS su richiesta degli enti. Da qualche tempo è stato deciso di apporre il limite di 30 km orari e il divieto di transito per cicli e motocicli. Da Todi, la Torre del Palazzo dei Priori ospitarà un museo di arte contemporaneo, investimento di oltre 900 mila euro. Comunicazione della Basilica di San Pietro, padre Enzo Fortunato, nuovo direttore, nominato dal Papa coordinatore della giornata mondiale dei bambini. Intanto arriva Umbria con festival di fumetti e giochi a Bastia Umbria, oggi e domani a Umbria, fiere il festival dei nerd e dei gaming con anche tanti ospiti d'eccezione. Ma si parla anche di Assisi proprio sul messaggero e di padre Enzo a San Pietro porterò lo spirito di Assisi in carico in Vaticano per padre Enzo su nomina di Papa Francesco. Dirigerà di fatti la comunicazione della Basilica e coordinerà la giornata dei bambini. Ringrazio il Santo Padre per la fiducia che mi manifesta e grazie a tutti al Sacro Convento a Di e ha dichiarato proprio padre Enzo Fortunato. Poi vedete oggi e domani Umbria e Fiere di Bastia il festival dedicato al fumetto e ai giochi da Cristina D'Avena che sarà ospite alle Tartarughe Ninja al Via Umbria con anche tanti altri ospiti illustri come lo stesso Maccio Capatonda Andrea Paris per quanto concerne il festival di cosplay, nerd e gaming a Bastia per l'appunto. E poi ancora altre notizie sempre sul messaggero Gualdo Tadino torna il bussolo per l'elezione del gonfaloniere si legge Città di Castello sicurezza stradale invece nel nome di Nico e Micheli il progetto portato avanti dall'associazione Il Mosaico 2.0 e poi passeggiate nell'arte improvvisazione musica gli eventi del fine settimana per quanto riguarda ancora in questo caso Perugia. Ma tornando anzi restando di fatto al messaggero andando però a vedere la situazione legata anche alla cronaca ai furti caccia allora Castel del Piano Citerna presa una ladra. Nuovo colpo nella frazione perugina situazione ingestibile in Alto Tevere ancora raid ma l'assalto alla ricevitoria va male. Oltre 7.000 procedimenti contro ignoti e 500 contro noti attivati in un anno dalla procura si legge sempre sul messaggero. Gulbio invece colta da malore dopo aver trovato la casa svaligiata è successa una signora di 77 anni che vive sola in zona Shanghai. Per quanto riguarda Todi alvei lavori per il percorso ciclo pedonale investimento da 250.000 euro marciano consiglio comune all'aperto cittadini per il caso legato all'ospedale di Pantalla appuntamento per giovedì prossimo si parlerà delle prospettive proprio del nosocomio con i tanti nodi legati alla sanità. Andiamo anche al Corriere di nuovo a Città di Castello. Ospedale Blitz di Tesei e Coletto. I vertici della regione hanno potuto verificare in prima persona lo stato di salute del nosocomio Tifernate. Questa mattina è prevista una protesta promossa da CGL Will in piazza Matteotti. Intanto per la governatrice c'è stata anche una visita dallo Torino. La presidente dell'Umbria è stata invitata per un ulteriore controllo anche la prossima settimana. Estendere lo screening alla mammella tutte le over 45. Approvata all'unanimità dal Consiglio Comunale la mozione di Luciana Bassini emendata da Sabba per sollecitare Palazzo Donini. Un vertide lavori in corso. Chiude l'RSA sempre sul Corriere. Previsto il raddoppio dei posti letti. Il servizio da lunedì sarà trasferito nel nuovo ospedale di comunità di Città di Castello. Intanto Asso Farma Nazionale da Cunto, membro dell'ufficio di Presidenza per quanto riguarda l'attuale presidente dell'Istituto Clinico Tiberino. E da Citerna furto in ricevitoria denunciata una donna di 55 anni. Origini campane ma residente proprio in Alto Tevere. Da Gubbio invece sempre sul Corriere Madonna dei Perugini servono risposte chiari. Il consigliere Goracci che fine faranno gli appartamenti in social housing. Questo il Busillis da parte del consigliere comunale per quanto riguarda l'area di Madonna dei Perugini, sempre più in stato di abbandono, si chiedono chiarimenti su social housing. Strada chiusa da anni, ipotesi di una nuova stazione di carburante. Officina dei Sapori tra i cinque finalisti di Forchettiera Wars, il locale nel cuore di San Martino, è in concorso proprio per questo importante premio. Mentre Elba dona un macchinario all'ospedale di Branca. L'associazione intitolata Elisabetta Barbetti consegnerà lunedì mattina una sonda ecografica wireless. E poi il limite, nuovo libro per il professor Regni che sarà presentato oggi pomeriggio alle 17 alla Biblioteca Speregliana di Gubbio. Città capitale del tiro alla fune, Egualdo Tadino, sempre sul Corriere, partecipanti in arrivo da tutta Italia per i campionati nazionali al Palazzetto. Carlo Angelo Luzzi, ancora un appuntamento organizzato dalla FIGES per giochi e sport tradizionali che promuovono proprio il territorio. Intanto incontro sulla ex Tagina, si terrà nel pomeriggio di giovedì prossimo per quanto riguarda il futuro dell'azienda gualdese. Comune invece a Bologna per il forum delle disabilità. Il sindaco Presciutti sarà uno dei relatori dell'iniziativa sul tema amministrazione e urbanistica. A Nocera Umbra, Palio dei Quartieri, Coccia, eletto presidente dell'Ente, insediato il nuovo direttivo Grilli, Vice e Stefanelli Serretaria. Il gruppo si è messo subito al lavoro esaminando lo statuto. La 29esima edizione del Palio si terrà dal 5 all'11 agosto a Nocera. Da Gubbio sulla Nazione, la città perde altri 156 residenti meno nati, emigrazione e decessi. La fotografia dell'ufficio anagrafe comunale nel 2023 celebrati 37 matrimoni religiosi e 57 civili, si legge proprio sulla Nazione. La popolazione residente a Gubbio al 1 gennaio 23 al 31 dicembre dello stesso anno è passata da 30.703 di cui 1.921 stranieri a 30.569. Ancora da Gubbio la mostra mercato dell'antiquariato e collezionismo da domani trasloca nell'area di corso. Garibaldi, Gualdutadino, energia utilizzando il vento, polemiche sull'impianto, il progetto sta facendo discutere. Da Nocera Umbra, parco eolico full territorio, il consiglio deve esprimersi, lo chiede la consigliera Monica Muzzi. Mentre ancora di nuovo da Gubbio, raccolta rifiuti in vigore i nuovi servizi di Sogeco, scrive sempre la Nazione. Sempre dalla Nazione, ma su Foligno, nuovo auditorium Santa Caterina, riqualificazione con Art Bonus, contributo di 50.000 euro da parte di Umbra Group per rendere la struttura uno spazio polifunzionale. No invece alla galleria partecipata assemblea. Un centinaio di persone risponde all'invito lanciato dal comitato, giù le mani dalla Valnerina per quanto riguarda la vicenda che arriva da Santa Anatolia di Narco. Da Spoleto invece, svincolo nord e chiesa, cambia il volto della città vista dalla statale Flaminia. Mentre Regione Anas si preparano a modificare l'incrocio a raso, la Curia presenta il progetto di riqualificazione del tratto verso la zona di San Pietro. Prevista una potatura parziale per scoprire la facciata e restituirle una qualcerta monumentalità, scrive sempre la Nazione. Intanto Angela Finocchiara al Tatro Menotti con il calamaro gigante. La popolare attrice arriva giovedì a Spoleto. Da Foligno, carnevale dei ragazzi, mercoledì su il sipario. Espulso, torno in Italia, clandestino arrestato. Ancora la notizia di cronaca arriva sempre dal Folignate. Spoleto, rivolta a Terzo Polo, faccia a faccia tra Tesei e Sisti. Si legge sul Corriere, i comitati alzano il tiro. Qualsiasi trattativa deve finire con la riapertura dell'intero reparto materno-infantile, ma anche cardiologia e rianimazione. Il primo cittadino e la governatrice si vedranno la prossima settimana. Intanto continua lo scontro per quanto riguarda la sanità spoletina. A Cascia, rassegna delle Pasquarelle al via la 47esima edizione e cinque studenti disabili in Europa con l'alberghiero per i ragazzi del De Carolis di Spoleto. L'inclusione vola proprio in terra ellenica. Da Terni invece sul messaggero stadio clinica il comune può avviare la procedura. Il progettista Anibaldi spiega i tempi. È possibile ora portare a termine l'iter. Non servono bandi o gare europee in casa ternana, interesse e competenze. Si legge proprio sul messaggero. Si ha l'investimento da 6 milioni per la nuova ciclo di intanto staino cascata per quanto concede le opere pubbliche ternane e poi per la cronaca sorpresa spacciare nei parcheggi dell'asta. Finisce in manetto un tretto ottenne. Oltre alla cocaina a casa nascondeva 31 mila euro, segnalato anche dai vigilantes. E poi ATC Giovanni Montani è il nuovo presidente. Sindaco di Acqua Sparta succede fino al 2028 Leonardo Fontanella. La sua nomina è arrivata dopo mesi di stallo per quanto riguarda appunto l'ambito territoriale 3 di caccia. Terni dalla Nazione spaccia nel parcheggio dell'asta. Pusci era arrestato dai carabinieri, segnalato all'arma dal personale di sorveglianza dell'acciaieria. In casa teneva cocaina e ben 31 mila euro. E poi il ricordo di Alberto Provantini a dieci anni dalla morte nella sala del Consiglio Provinciale sarà ricordato il prossimo 24 gennaio. FPCGL, scusate, servono più personale e trasferimenti urgenti di detenuti dopo le ultime tensioni nel carcere di Sabbione. Andiamo a Narmi, un cimitero di rifiuti tra il verde con discarica a cielo aperto in diversi tratti della strada ortana e nelle vie di accesso alle mole lungo le gole del Nera. Si legge sul Corriere con tanto di fotoreporage, con i punti dove sono stati gettati oggetti di ogni genere all'interno di un tratto di strada immersa nel verde. Le segnalazioni arrivate in comune a Narmi sono corpose, scrive proprio il Corriere dell'Umbria. Anche ad Avigliano il Carnevale con le maschere Umbre, mentre per quanto riguarda Monte Gabbione d'Orvieto la scarzuola entra nel network con la città ideale di Buzzi tra i 12 nuovi capolavori inseriti nella rete dei grandi giardini italiani. Prestigioso riconoscimento che permette di promuovere e valorizzare le migliori realtà del bel paese. Chiamano aiuto per l'auto in panne ma la polizia scopre la droga, questo dopo la richiesta di intervento proprio sulla A1. Elezioni comunali, bello rvieto lancia la sfida, l'appello alle forze politiche della sinistra e le liste civiche per un nuovo progetto comune. Lo sport sul messaggero, Ternana, assalto al Cittadella oggi pomeriggio alle 14, ha liberati un match decisivo per la salvezza contro una squadra che perde pochissimo come quella allenata da Gorini. L'allenatore rossoverde Breda dichiara abbiamo le armi necessarie per poter vincere, punto sulla voglia di rivalsa. Atteso dal primo minuto il neocquisto Gaston Pereiro nel 3-4-1-2 alle spalle delle punte di Stefano e Raimondo. E poi per quanto riguarda invece la Serie C, Grifo pronta alla prova del 9, Biancorosti a caccia delle tre vittorie di fila centrate due anni fa con Alvini allenatore. Due successi in altre tante gare, inizio 2024 per Formisano che domani affronta la SPAL. Il Bresci intanto insiste per dell'Orco, accordo più vicino con il difensore, si legge sempre sul Corriere. Gubbio per il blitz al Recchioni si gioca domenica domani alle 20.45, l'ex Malaccari vicino proprio alla Fermana che sarà il prossimo avversario domani sera del Gubbio. Per quanto riguarda l'eccellenza ecco il derby dell'amicizia con Fumanti, Arcipreti avversari per un giorno nell'anticipo Piero Antonio, Atletico BMG si gioca alle 14.45 con Alvaro Arcipreti e Giuseppe Fumanti, amici da una vita scrive proprio il Corriere. Basket bimaschile, Val di Ceppo Sprint, vietato rilassarsi, le parole proprio di Capitan Casuscelli, occhio Mondragone si è rinforzato, dichiara la mente in campo proprio della formazione ponteggiana, 20 punti in classifica quelli dei Perugini, ora quarti da soli dopo l'ultimo successo con Viterbo, domani alle 18 trasferti in casa dell'ultima in classifica, ovvero proprio Mondragone per la Sicoma. Intanto una due femminili, Umberti de Viaggia a Rovigo per continuare a crescere dopo l'ultima vittoria con Treviso, saluto a Pompei dopo l'addio, sei anni passati in maglia PFU per chicca Pompei. A due femminili, Bartocini forte in fissi, costretta a vincere per mantenere il primato, gioca in casa di Albese e Como, la formazione perugina con l'italo-russa Cosareva che dichiara la squadra di Chiappafreddo e temibile tra le mura amiche. E poi ancora sulla Nazione, Sir Perugia, assalto a Modena, parlando invece di Superlega di Volley, dalla due femminili alla Superlega maschile, stasera prima trasferta del 2024 per Solè e compagni, sarà una gara complicata, dichiari il centrale argentino per la sfida contro la squadra emiliana. Questo dunque per quanto riguarda anche lo sport che chiude di fatto la rassegna di prima pagina, ma torniamo quanto prima con TG Mattino dopo solo un pizzico di pubblicità. Restate con noi.